Nove persone in carcere, una agli arresti domiciliari e per un'altra è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questo è il bilancio di un'operazione condotta dalla polizia in provincia di Napoli. Le misure sono state messe dal GIP al termine di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Gli indagati devono rispondere a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso nonché di estorsione, tentata estorsione, detenzione di armi e detenzione e fini di spaccio di droga, aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'associazione camorristica denominata Clan del Rione Moscarella, operante nei comuni di Castellamare di Stabbia, Pompei, Sant'Antonio Abate e zone limitrofe. In particolare, nel corso delle indagini svolte dalla Sisco di Napoli e dallo SCO con il supporto operativo della squadra mobile di Napoli, sarebbero stati individuati vari episodi estorsivi posti in essere in danno di alcuni operatori commerciali. Inoltre, uno degli indagati, benché detenuto, avrebbe mantenuto contatti telefonici con i propri complici al fine di pianificare e dirigere le attività estorsive.